Barton Flanick lascia il false book e si trasferisce in prestito allo Sharpton Donetsk, in seguito il comunicato ufficiale. Il difensore centrale 24enne, Barton Flanick, è entrato a far parte dello Sharpton Donetsk, in prestito dallo sword book. Fino alla fine della stagione 24-25, il club di Donetsk avrà il diritto di acquistare il giocatore, secondo i termini d'acquisto. Barton Flanick è un laureato della Dinamo Zagabia, dove ha fatto i suoi debutti in prima squadra nel luglio 2020. Ha fatto un totale di 82 presenze per il club, un gol e quattro asti, diventando campione di Croazia, tre volte, 2020, 2021, 2022. E ha vinto la Coppa di Croazia, 2021. Nell'estate 2022, Flanick si è trasferito al Wolfsburg, tedesco dove ha giocato partite. Barton Flanick è entrato a far parte del club della Bundesliga, Darnoš in prestito nella stagione 23-24. 20 presenze, un assist, ha giocato per la nazionale giovanile, croato in tutte le categorie di età. Barton Flanick ha collezionato 15 presenze e segnato un gol per la Croazia Under-21.